Direttamente da tantino ragazzi, abbiamo vinto, dai! Trasmo Spera, Lugo si è vinto, spaccati, spaccati! Tuttavia volta da tantino ragazzi, abbiamo spaccato l'Inghilterra, dai! Trasmo con l'8-2 ragazzi, abbiamo spaccato tutto, spaccato tutto, sono tutti i tre punti fondamentali adesso, la sfida contro l'Unghilteria ovviamente, l'Unghilterra adesso adesso c'è speranza, c'è speranza! Bellissimo ragazzi, veramente proprio la prima volta che ho avuto, me la posso godere, me la posso godere ragazzi, contentissimo, contentissimo! Eccoli ragazzi, ecco lì! Quasi sera praticamente, quasi zero, noi tutti la passiamo a passare, contentissimo ragazzi, tre punti fondamentali, adesso veramente non dico, adesso contro l'Unghilteria, massimo delle cose, se vogliamo passare! Ma dire questo ragazzi, basta vincere tutte, basta vincere, poi possiamo anche crederci, ma non migliorare direttamente, non migliorare direttamente, contentissimo! Resto ragazzi, c'è la speranza, c'è la speranza, comunque iscrivetevi al canale, commentate e ci becchiamo nel vostro video, ciao ragazzi! Ciao! 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 Buon foglio ragazzi, ben buon foglio! Ci wiriamo nel vostro video, iscrivetevi al canale, commentate e ci vediamo! Ciao ragazzi! Il posto è da la terra, ciao ragazzi!